. Andamento astrologico di oggi, oroscopo domani 16 maggio 2018 Paolo Foxy Fati vostri, previsioni del giorno in amore, studio, lavoro, fortuna e successo. . Ecco le indicazioni della giornata per tutti i segni, con stelline e voti andati in onda su Rai 2, durante la trasmissione televisiva I fatti vostri. . Per l'Ariete ci sono piccoli o grandi difficoltà che riguardano amore e lavoro, e che non consentono di starsene sereni. . Toro è tra i segni favoriti della giornata, avendo 5 stelle nella classifica di Paolo Fox. . Questa settimana sarà agitata e polemica per Gemelli, che attualmente risente di una grande agitazione. . Tantro attualmente risente di alcune tensioni che riguardano relazioni interpersonali. . Gionata difficile per Leone, l'oroscopo domani segnala a Luna un aspetto dissonante. . Il bisogno continuo di certezze e conferme potrebbe rappresentare un problema per Vergine. . Toro 5 stelle, hai una grande energia ed in questo momento puoi antiprenderti una piccola soddisfazione. . Non sarà difficile vivere anche belle emozioni in amore. È una giornata di recupero, sei tra i segni favoriti della settimana, come indicato dalla classifica settimanale di Paolo Fox, andata in onda sempre su Rai 2. . Capricono 5 stelle, sei un segno che non ama le parole, ma preferisce i fatti. Ami l'essenzialità, è probabile che nell'ultima settimana tu abbia tagliato tutti i rapporti inutili nella tua vita. . Adesso sei interessato dagli splendidi transiti di Mercurio e Urani. Anche Saturno è in aspetto favorevole e puoi ottenere di più. . Campo 4 stelle, l'oroscopo domani segnala che c'è una condizione astrologica molto interessante. . Se non ti dai bambini, però, è difficile che qualcosa capiti. Entro il 23 maggio possono realizzarsi obiettivi importanti. . Avanza delle richieste e non sottovalutare proposte e offerte che possono esserti fatte. . Attenzione ad alcune questioni di tipo sentimentale, un ex o una questione in sospeso che potrebbero tomare a metterti in difficoltà. . E dai primi giorni di giugno che si può sbloccare una situazione che riguarda il lavoro. . Acquario 4 stelle, in questo momento ti trovi di fronte ad una scelta, e non sai bene se accettare o meno una proposta insolita, ma allo stesso tempo interessante. . Se qualcuno può esserti d'aiuto, non sottovalutare questa collaborazione. C'è una condizione astrologica importante, che riguarda l'amore ed il lavoro. . E' un periodo impegnativo ma anche ricco di opportunità.Ariete 4 stelle, con leone e scorpione possono nascere belle intese. . . Si tratta di rapporti conflittuali, di tira e molla che però accendono il tuo entusiasmo e tengono attiva la tua curiosità. . . Entro la fine di maggio o metà giugno, se una persona non accetta le tue avance, è inutile insistere, e potrebbe essere meglio volgere le tue attenzioni altrove. . . Nel lavoro ci sono ancora situazioni part-time che non ti danno le garanzie sperate. . Sagittario 3 stelle, ti aspettano mesi particolari per i sentimenti. Venere sarà in aspetto positivo e ci sarà un buon recupero. . Probabilmente adesso stai attraversando un periodo di crisi, molte polemiche riguardano la famiglia o persone che ti sono particolarmente vicini. . Ci sono difficoltà di tipo economico-finanziario che ti rendono ulteriormente agitato e nervoso. . . Leone 2 stelle, l'oroscopo domani 16 maggio segnala l'una in aspetto dissonante. Potresti aver vissuto qualche tensione nelle ultime ore. . Per te è molto importante riuscire a conseguire buoni risultati. Sei un segno in continua espansione, probabilmente ti stati impegnando per realizzare qualcosa di nuovo. . . Soprattutto nel lavoro entro l'estate hai qualche occasione in più da poter sfruttare. . . Nell'ambito del privato però ci sono piccole o grandi agitazioni che ti mettono di cattivo umore. . È una settimana locale non che soprattutto perché ci sono discussioni che potrebbero rallentarti. . 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 Non condiscono di realizzare ciò che desideri. Sei agitato e nonostante ciò avrai l'opportunità di reagire.Gemelli 3 stelle, c'è una settimana abbastanza difficile e tesa che ti aspetta. In questo momento potrebbe aiutarti avere al tuo fianco un punto di riferimento. Chi ti è vicino, deve essere prudente con le parole. Non esiti ad avanzare critiche e ad annotare tutto ciò che non va. Bilancio 3 stelle, i nati del segno stanno attraversando un periodo di grandi cambiamenti e trasformazioni. Adesso ti stai facendo tante domande, e ti stai interrogando sul tuo futuro. Alcuni vorrebbero maggiori garanzie, ma non è facile riuscire ad ottenere certezze e riferimenti che ti possano aiutare a fare scelte e decisioni ultimi nel lavoro e di nomine. Pesci 3 stelle, a metterti alla prova è soprattutto lo stress e l'agitazione. Stai attraversando un periodo di particolari cambiamenti, se non riesci a realizzare tutto ciò che desideri, ti senti ancora più agitato e nervoso. In alcuni casi sei troppo generoso, tendi a stare male quando non riesci ad aiutare le persone che ami come vorresti. Ora però cerca di concentrarti sui te perché in questo momento sei abbastanza sotto pressione. . . . . . . .